CGL, CISL e UIL il 14 dicembre scenderanno in piazza per una manifestazione unitaria regionale. Per il lavoro la legge di stabilità deve cambiare. Il 14 concludiamo e rilanciamo un percorso di iniziative di lotte che stiamo facendo anche in questi giorni perché non condividiamo la legge di stabilità del Governo nazionale. Questa legge non cambia segno, non permette sostanzialmente di considerare al centro il lavoro e la crisi del lavoro. Noi vorremmo difendere il lavoro che si perde, quindi bisognerebbe rifinanziare i ammortizzatori in deroga, la cassa integrazione in deroga, rifinanziare i contratti di solidarietà e rilanciare l'occupazione verso i giovani. Qual è la proposta da parte dei sindacati? La proposta dei sindacati che è l'unica vera in campo per uscire dalla crisi, che anche il Governo a parole dice di condividere ma poi non è conseguente, è quella di abbassare in modo consistente le tasse a lavoratori e pensionati per renderli nuovamente capaci di consumare e far ripartire economia e occupazione. Il punto su cui poi invece il Governo si ferma è che per finanziare questo abbassamento delle tasse bisogna ridurre in modo drastico i costi della politica diretti ed indiretti e bisogna creare un automatismo fra quello che si recupera dall'evasione fiscale e l'abbassamento delle tasse. Ma la Regione a tal proposito cosa dovrebbe fare? Bisogna lavorare con il Comitato delle Regioni per ottenere il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. La situazione si fa più difficile, noi stiamo riuscendo ad arrivare fino a ottobre con le risorse, ma poi non ce ne abbiamo più. E qui la situazione è più grave, bisogna fare in modo assolutamente che vengano finanziati gli ammortizzatori sociali. non diamo prospettiva di ripresa, ma almeno permettiamo alla gente di poter continuare a vivere. Sono argomenti che sono importanti, su cui la Regione deve essere presente e deve svolgere appieno il suo ruolo.